È una partenza diversa sicuramente per il Giro, ma sono convinto che sarà un grande spettacolo perché la Danimarca ha una grandissima tradizione ciclistica, una cultura per la bicicletta veramente radicata nel popolo. Conoscevo già la Danimarca, ho già fatto da corridore il Giro di Danimarca, sono stato in Danimarca per i mondiali a Copenaghen e vedere i cittadini, il popolo che si sposta quotidianamente in bici, per noi amanti del ciclismo è qualcosa di particolare che non abbiamo in Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.